Quelle che vedete sono cacca di coniglio, tende a farle sferiche in questo modo, e qua è pieno, pieno di escrementi di coniglio, che vuol dire che passano spesso di qua. Il terreno è quello che è, per cui sarà abbastanza difficile rintracciare le tracce di coniglio, però vedo che qua sono saliti, sono saliti perché ci sono queste tracce come se avessero scavato nel terreno, e una volta arrivati qui hanno defecato. Adesso cercheremo di metterci sulle loro tracce.